Chi lavora va premiato, quindi mi premio. Secondo me sto male. Oggi gita di lavoro fuori porta, tornando nella capitale, a questi due giannizzeri collaboratori di fascia alta, di media fascia. Uno è della Roma, quindi è di fascia alta, uno è della Lazio. Anziché tornare nella capitale, cara Simona e cara Marco, secondo me stiamo male? Frittorina e falanghina, anzi forse pecorino, adesso decidiamo. Mozzarellina, frittorina, lago, sole, io alle tre e mezza comincio il corso di formazione. Voi tornate a fare il vostro, ma secondo voi ci tornate nello stesso modo o ci torniamo meglio? Boh, boh, Marco Lì? Secondo me è meglio, dai. Un po' tipo il giorno del derby, dai. Eh ma? È un bel derby, un derby importante, di 6 maggio, di giornalaccia. Ah, sta Marco Lì sta a te, sta Marco. Non c'ha mai dei soci. Ah Marco Lì, sta a mangiare a Marco Lì. Un derby a casa. Sì, esattamente, un duro, un duro, sì, ecco. Ma com'è che ha fatto Marco Lì? La cosa ha passato? Bella per voi. I collaboratori, senza di loro, sono poca cosa. Vanno tenuti, vanno ingrassati, vanno coltivati, vanno ben trattati. Perché se a fine mese non gli vuoi pagare lo stipendio, gli devi dare un po' di guazza durante. Bella per te, viva la vita. Siete contenti? Siete qui al pranzo. Siete mese? Siete qui al pranzo.